Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Italpress Economy, cominciamo come sempre con le notizie che vengono dall'Italia e sull'Italia e a proposito d'Italia la nostra economia nel complesso viene letta dai mercati in chiaroscuro, mercati che sono quindi in una situazione come si dice tecnicamente di attesa, ma a febbraio, notizia sicuramente positiva, le imprese hanno assunto 408 mila persone. Vediamo! Gli andamenti dell'economia dell'area euro e di quella italiana sono ancora legati a doppio filo agli effetti della politica monetaria restrittiva della BCE, effetti che hanno ripercussioni anche sul mercato bancario in Italia. Tuttavia negli ultimi mesi si stanno manifestando i primi segnali di diminuzione dei tassi. A evidenziarlo è l'ABI nel suo rapporto mensile. Una visione in parte condivisa anche da Confindustria nel suo rapporto congiuntura flash di febbraio. Il PIL italiano, cresciuto a fine 2023 dello 0,2% grazie a servizi e costruzioni, nel primo trimestre 2024 è sostenuto dalla fiducia in crescita e l'inflazione poco sopra i minimi. L'industria sembra vicina ad archiviare la fase di flessione, ma i tassi rimarranno alti più a lungo dell'atteso secondo il report. Resta il freno ai flussi commerciali dovuto alla riduzione dei transiti nel canale di Suez. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, a dicembre il tasso di occupazione è salito al 61,9% dal 59% di fine 2019, quello di attività al 66,8%, mentre la disoccupazione è scesa al 7,2% dal 9,7%. Il recupero del potere di acquisto dei salari iniziato dalla primavera 2023 è atteso in rafforzamento nel 2024 e solo in parte sosterrà i consumi delle famiglie. Le vendite al dettaglio sono scese a dicembre, ma il mese scorso è risalita la fiducia delle famiglie e delle imprese del commercio. Restano invece negativi giudizi sull'opportunità di acquisto di beni durevoli a causa dei tassi alti. Sono circa 408 mila le assunzioni programmate dalle imprese a febbraio e salgono a 1,3 milioni quelle per il trimestre febbraio-aprile, con un incremento rispetto allo scorso anno del 9,5%. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camere e Anpan. L'industria manifatturiera è alla ricerca di 82 mila lavoratori e nel trimestre le assunzioni previste saranno 245 mila in flessione rispetto a febbraio-aprile del 2023. Continuano ad avere il segno positivo le costruzioni, ma sono soprattutto i servizi a determinare l'andamento positivo delle assunzioni con circa 276 mila a febbraio. A creare maggiore opportunità di lavoro è il commercio, seguito da turismo e dai servizi alle persone. A febbraio sono difficili da reperire 201 mila profili professionali, soprattutto a causa di mancanza di candidati e preparazione inadeguata. A risentire maggiormente del mismatch sono le industrie del legno e del mobile e le imprese della metallurgia e fabbricazione di prodotti di metallo. Dal borsino delle professioni emerge come siano difficili da reperire sul mercato operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni, fonditori, saldatori, lattonieri, calderai e montatori di carpenteria metallica. A un mese dall'entrata in vigore l'assegno di inclusione ha raggiunto 480 mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737 mila. Lo rende noto il Ministero del Lavoro. In totale le domande pervenute a gennaio sono state 779 mila 302, respinte a 182 mila, ovvero il 23%. L'importo medio degli assegni pagati nel mese di gennaio è risultato pari a 620 euro. I controlli preventivi hanno evidenziato che 24 mila domande necessitano di un supplemento di istruttoria per l'accertamento di disabilità o nucleo familiare non conforme, mentre 77 mila di approfondimenti per dichiarazione sostitutiva unica. Per ulteriori 22 mila domande l'Inps è in attesa della verifica della certificazione da parte degli enti preposti. Già il prossimo 27 febbraio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale procederà al pagamento della mensilità di febbraio per tutti i 480 mila nuclei che hanno ricevuto la mensilità di gennaio. Dalla 15 marzo saranno messe in pagamento le domande presentate a febbraio e che supereranno i controlli preventivi. E ora le notizie dall'Europa. La prima è molto importante perché è un tema di discussione da qualche anno intensa sia a livello politico che a livello economico che a livello di sviluppo possibile dei vari paesi dell'Eurozona e c'è l'importo del Next Generation Europe arrivato a 225 miliardi. Sono già stati erogati agli Stati membri quasi 225 miliardi di euro di fondi nell'ambito del Next Generation EU. Lo ha reso noto la Commissione europea che a fine 2023 ha valutato come raggiunti in modo soddisfacente oltre 1150 obiettivi e tappe fondamentali del piano. Il raggiungimento di questi passi nell'attuazione delle riforme degli investimenti ha portato a cambiamenti positivi e risultati tangibili sul campo, spiegano da Bruxelles. Next Generation EU prevede risorse complessive per 800 miliardi di euro entro il 2026 come risposta alle ricadute economiche e sociali della pandemia. Per la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a tre anni dalla sua nascita il piano continua a sostenere la ripresa economica e a promuovere cambiamenti positivi in tutta l'Unione. Secondo il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, nei prossimi anni, man mano che gli investimenti procedono e i benefici delle riforme si manifestano gradualmente, l'impatto sulla crescita dell'Unione europea è destinato ad aumentare ulteriormente. La Commissione europea ha approvato un progetto di comune interesse europeo a sostegno delle infrastrutture dell'idrogeno. L'iniziativa è stata concepita e notificata congiuntamente da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia. Gli stati membri erogheranno fino a 6,9 miliardi di euro in finanziamenti pubblici che dovrebbero a loro volta liberare 5,4 miliardi di investimenti privati. 32 imprese con attività in uno o più stati membri, tra cui anche PMI, parteciperanno a 33 progetti. L'IPCHAI 2 Infra interesserà un'ampia parte della catena del valore dell'idrogeno e sosterrà la diffusione di elettrolizzatori su larga scala per 3,2 gigawatt per produrre idrogeno rinnovabile. La realizzazione di condotte di trasporto e distribuzione dell'idrogeno nuove e riconvertite per circa 2.700 chilometri. Lo sviluppo di impianti di stoccaggio dell'idrogeno su larga scala. Dopo le notizie importanti che vengono dall'Europa, è il momento del nostro focus. Ancora una volta siamo in presenza con il nostro economista di fiducia di Italpresso Giuliano Zoppis. Buongiorno. E diciamo come accade negli ultimi tempi, siccome le notizie sono tante, cerchiamo di dare le più importanti della settimana, cioè di analizzarle come giusto nel focus. Oggi gli argomenti sono ben tre. Parlo poco perché vedi che il tempo scorre. Cominciamo da una cosa che magari la gente sente parlare tante volte, decreto mille proroghe. Tutti hanno capito che lì dentro, con una questione di urgenza, ci vanno messe tante cose diverse fra di loro che forse andrebbero, come si dice, per campi semantici un po' più ordinati. Invece succede che con questo mille proroghe ci si mette un po' tutto. Passato alla Camera questa settimana nel 28 approvato definitivamente, sarà approvato, si parla addirittura della fiducia, questo per dire l'importanza di questo decreto per il governo, al Senato. Che c'è lì dentro? Allora Claudio, il mille proroghe è definito un atto omnibus. È nato, fra virgolette, nel 2001 e da allora il governo, qualsiasi governo, ha fatto ricorso a questo provvedimento. È un decreto legge che contiene rinvio di scadenze, introduzione di nuove norme e entrata in vigore di provvedimenti. È molto importante perché qua, in questo decreto, quest'anno ci sono misure che toccano molto i nostri concittadini. Per esempio c'è la famosa agevolazione agricola che ha portato alla pace, alla Pax agricola dell'IRPEF, quindi l'esenzione totale fino a 10.000 Euro e l'esenzione parziale al 50% per i redditi dominicali, c'è il rinvio delle multe per quasi 1,8 milioni di persone di chi non ha fatto il vaccino, personale sanitario, forze dell'ordine. Un tema su cui si sarebbe discusso in prima pagina un paio di anni fa. Esatto. Solo la verità di Belpietro ancora lo mette in prima pagina. E questo provvedimento che riguarda over 50, personale sanitario, personale scolastico, forze dell'ordine, questo pagamento è rinviato per ora, ma poi vedremo, al 31 dicembre. C'è la rottomazione delle cartelle, c'è chi non ha pagato le cartelle sattoriali, pur avendole rottomate, può contare su questa prova dal 15 marzo. C'è una misura molto importante che riguarda anche i ragazzi, i nostri figli, che è l'aumento del bonus psicologo e per tutti coloro che hanno un ISEE al di sotto dei 50.000 Euro, si può arrivare anche a un bonus di 1.500 Euro per gli ISEE più bassi e questo per tutto l'anno. C'è la proroga del mutui per gli under 36 e c'è anche per i medici, vista la scarsezza purtroppo di personale, la possibilità di andare in pensione se faranno domanda entro la fine dell'anno prossimo a 72 anni. Queste sono le cose principali. Questo l'abbiamo detto perché sono gli interessi pubblici, quindi chi ci ascolta sa, di volta in volta, a seconda dell'interesse personale, che cosa trovare. Un giudizio su questo tipo di procedura politica. Chiaramente Claudio è proprio il famoso salvataggio in corner, quando la spinta politica delle opposizioni, qualsiasi sia, la spinta dell'opinione pubblica, perché in alcuni casi qui c'è stata una spinta anche dell'opinione pubblica, pensiamo per esempio al provvedimento per gli agricoltori, si vede che non si riesce in qualche modo a colmare e si mette tutto in questo provvedimento. Ci sono state forti contestazioni che hanno portato questi decreti anche all'esame della Corte Costituzionale, che però, storcendo un po' il naso, ha detto che quando viene certificato la necessità e l'urgenza, che ti ricordo Claudio è la base del decreto di legge, può passare. Secondo tema, 26 febbraio, giorno importante per i BTP, che succede? Succede che questo popolo italiano che è diventato da bot people a BTP people, praticamente ha... Non lo so che detesto le sigle, i bot si capisce. Esatto, i BTP però sono i buoni del tesoro poliennale che dallo scorso anno hanno nuove famiglie, che hanno riscosso un grande successo e sono il BTP Italia e il BTP Valore, che da una parte hanno difeso dall'inflazione, dall'altra parte hanno dato una sicurezza per il pagamento di cedole progressive. Ti ricordo che nel 2023 la quota di debito pubblico in mano agli italiani e il debito pubblico è arrivato quasi a 2.900 miliardi di Euro, è passata dall'8,7 al 13,5%, questo proprio perché questi BTP che sono cosiddetti rivolti al pubblico retail, che significa noi, quindi ai cittadini, non alle istituzioni finanziarie, hanno avuto un grande successo. Parte il 26 febbraio questa nuova emissione, che durerà fino al 1 marzo, salvo chiusura anticipata, è un titolo a 6 anni, concederà per la prima volta un pagamento di una cedula trimestrale e chi deterrà questo titolo fino alla fine della sua vita, alla fine dei 6 anni, avrà anche un premio dello 0,7%. È importante ricordare che ci sono due aspetti che fanno sì che queste emissioni abbiano così successo. Numero uno, non si pagano commissioni, cioè tu vai in banca alla posta e non devi pagare una commissione di acquisto. E numero due, che rispetto ad altre forme di risparmio, quelle tipiche azionarie, fondi di investimento e altre, la liquida fiscale è agevolata al 12,5%. Quindi le previsioni sono anche in questo caso di un buon successo di questa emissione. Terzo elemento, vorrebbe anche qui di fare una riflessione, ma il tempo scorre veloce, come tipo la riflessione, facciamola veloce. Sta cambiando l'atteggiamento culturale degli italiani nel suo risparmio? Sì, noi siamo purtroppo in Europa fra i paesi dalla più bassa educazione finanziaria, però gioco forza la pandemia, la crisi geopolitica che ha portato sostanzialmente all'aumento dei tassi di interesse, ha fatto sì che finalmente gli italiani, anziché lasciare solo in modo supino i soldi in banca, cominciano a guardarsi intorno. E l'aumento di questi percentuali nei confronti del diritto di Stato, ma anche verso altre forme di investimento, penso ai conti di depositi e altre cose, è un segnale che forse qualcosa si sta muovendo. Un romanzo con un intreccio sempre più complicato, ma spesso a tinte fosche, quello di una grande industria importante sul nostro territorio, che è l'Ilva di Taranto, che ha sviluppi continui tra quanto c'è lo Stato e quanto ci sono questi privati non italiani, quanto ci investono, come ci investono, mi sembra che lo Stato abbia fatto un passo avanti, o sbaglio? Beh, è un po' la storia che abbiamo raccontato anche la settimana scorsa con le raffinerie. Finalmente, diciamo, si è arrivati a una soluzione. Non è la migliore dal punto di vista, diciamo, delle partecipazioni azionarie, però lo Stato, il Governo, con il Ministro Urso, ha deciso l'amministrazione straordinaria per l'Ilva, ex Ilva, scusate, e ex Fincider. Stiamo parlando della più grande accelleria d'Europa, l'accelleria di Taranto, che dà lavoro a oltre 20.000 persone e tutto un indotto intorno molto, molto importante per quell'area. È stato nominato un commissario straordinario, l'ingegnere Giancarlo Quaranta. C'è stato il plauso dei sindacati per questa nomina, perché è stato nominato non un signore commercialista che passava da quelle parti, oppure in qualche modo ricorrente in queste nomine, ma una persona competente che conosce bene la siderologia e che quindi potrà dare probabilmente almeno in questa fase di passaggio una buona gestione. Il Governo si sta guardando intorno, perché è chiaro che non potrà rimanere questa la situazione, ma dovranno subentrare altri reazioni in sé privati. Anche stranieri, però questi, a differenza del gruppo franco-indiano ArcelorMittal che sta uscendo, che è uscito, dovrà sostenere questo processo di riconversione che, ricordo Claudio, è molto importante perché deve abbinare l'industria all'ambiente. È uno dei grandi temi, spesso ho la discussione. Esatto, e quindi da questo punto di vista si stanno facendo alcuni nomi, fra gli altri si parla anche di una grossa azienda ucraina, la Metinvest, che è già impegnata in Italia a Piombino. Queste sono le notizie, riguardano 20.000 lavoratori impegnati in quella zona e il tema che tu hai ricordato, con tante polemiche che abbiamo raccontato nelle nostre inchieste giornalistiche, fra questa linea d'ombra, se possiamo citare il famoso romanzo di Corrad, fra l'industria che ci deve essere perché crea posti di lavoro e benessere e rispetto delle regole ambientali che sono parte oramai integrante non solo dalla nostra cultura, non solo dalla nostra salute, ma di una modalità stessa oggi del fare impresa. E quindi è ovvio che i due elementi vanno messi insieme. Io ti ringrazio per questo focus molto ricco, molto rapido, ma molto chiaro. Ci vediamo insieme le notizie sull'EITEC e questa è la notizia, la leggo, in 565.000 hanno lavorato su piattaforme digitali nel 2022. Che numero è il secondo? È importante, è un numero importante. Allora vediamo il servizio. Sono 565.000 le persone tra i 15 e i 64 anni che in Italia nel 2022 hanno dichiarato di aver svolto almeno un'ora di lavoro tramite una piattaforma digitale. A renderlo noto è l'ISTAT che ha diffuso i principali risultati del modulo ad hoc sperimentale dedicato al digital platform employment che su base volontaria è stato utilizzato in 17 paesi europei e inserito nella rilevazione sulle forze di lavoro. Il fenomeno è più diffuso tra gli uomini rispetto alle donne, tra le persone di età compresa tra i 30 e 54 anni e tra quelle più istruite. Circa i due terzi hanno utilizzato un'unica piattaforma. Il 22% ne ha usato almeno due per svolgere lo stesso tipo di attività e il 10% ha lavorato su più piattaforme per svolgere attività diverse. Le attività più frequentemente immediate sono la vendita di beni, la consegna di merci, cibo incluso, la creazione di contenuti YouTube, Instagram e simili, l'affitto di case o stanze, i servizi informatici, le attività di insegnamento, tutoring e traduzione. Siamo al momento nel nostro format dell'intervista, ci è venuto a trovare qui nei nostri studi di Milano e lo ringraziamo, Tommaso Valle. Grazie a voi, grazie a te. Grazie. Allora, voi e te chiariamo subito. Io una volta ho fatto teatro e lavoravo al Trato di Roma con il grande Maurizio Scaparro che è scomparso non da molto e non sapevo come rivolgermi a Scaparro. Davo un po' del voi, un po' del tu, un po' del lei. Mi disse, se non sai come chiamarmi, chiamami Sire. Ancora ve lo ricordo questa cosa. Mi stai suggerendo di chiamarti. Però è divertente, ce la portiamo dietro. Questo per dire che in fondo, come manager, Tommaso Valle, marketing, communication, director, Omnicom, media group. Ho detto bene tutto, adesso poi spieghiamo bene e comunque sarei venuto a dare del lei. Però ci conosciamo, ci siamo visti nella tua precedente avventura a McDonald's e nella mia precedente avventura di direttori di video news a Meditat è stata e si occupava anche di rapporti con il mondo delle aziende e di comunicazione avanzata, però è anche un giornalista pubblicista e quindi siamo anche colleghi, quindi possiamo anche darci del tuo. Va benissimo. Va bene? Benissimo. Non sarei bocciato l'esamorale perché ho dato del tuo a un politico. Chiarito questo, ti chiedo subito brevemente, insomma 15 minuti dobbiamo parlare anche di contenuti, un po' una piccola carta di identità del manager dell'azienda che rappresenta, insomma. La gente dice Omnicom, che cosa fanno questi? Di che si occupa? Allora, per quanto riguarda il mio percorso professionale mi sono sempre occupato di comunicazione. Ho iniziato con la speranza e l'ambizione di fare il tuo mestiere, di fare il giornalista. È andata meglio? Ma non lo so, non lo so. Io amo il mio lavoro, per carità, lo amo moltissimo. Poi c'erano grandi opportunità in quel momento per inserirsi in ruoli di comunicazione all'interno delle aziende, io ho cominciato a occuparmi di comunicazione in agenzie appunto di comunicazione di pubbliche relazioni per poi passare in una grande multinazionale che tu hai già citato che è McDonald's, è un'esperienza internazionale ed oggi invece sono in Omnicom Media Group. Omnicom Media Group è un grande gruppo che si occupa di consulenza di comunicazione, di marketing, di investimenti pubblicitari, di advertising, questo è un po' l'ambito. Allora, 25 anni nel mondo della comunicazione, un quarto di secolo, una grande esperienza raccontata brevemente. Insomma, la domanda è un po' generica, però è fondamentale, noi parliamo tutti i giorni di sempre che noi abbiamo nel nostro discorso pubblico 5-6 parola mantra, formazione, sostenibilità, transizione, ogni giorno ho detto per carità, ho fatto un titolo dell'insostenibile, per chi ha letto Kundera, l'insostenibile pesantezza della sostenibilità, l'insostenibile leggezza dell'essere, perché a forza di nominarla non si capisce più che cos'è, è diventata pesante, oppure la semplificazione, a forza di parlarne io ho detto semplifichiamo non dicendola più, così una parola in mezzo. Togliamola, togliamo. Come cambia la comunicazione in questa nostra epoca, che è l'epoca, insomma, i lugenti anni venti del ventunesimo secolo, l'epoca della disruption digitale, dove andiamo? Andiamo verso una comunicazione, sicuramente tu hai detto già una serie di parole chiave, una comunicazione dove tutto è comunicazione, dove tutto è un canale di comunicazione, stiamo scoprendo ovunque ci giriamo, si contano circa 32.000, 33.000 messaggi a cui ciascuno di noi è sottoposto nell'arco di una giornata, messaggi pubblicitari, quindi poi non li incrociamo tutti nell'arco della giornata perché non abbiamo abbastanza tempo, però questo è come se fossimo immersi in una bolla che è ricca di tutti questi messaggi. E' anche un grande flusso, che mette a dura prova anche il nostro sistema percettivo storico. E' anche la nostra capacità poi di immagazzinare questi messaggi, dobbiamo riuscire a elaborarli. E' anche una parte del tuo lavoro. Eh, insomma, cercare di fare in modo che le informazioni e i messaggi riescano ad arrivare fino al proprio target. E' con questa selva oscura dei 32.000, come vi orizzontate voi esperti di comunicazione? Beh, allora, prima di tutto cercando di affiancare la comunicazione nella fase iniziale basandosi sui dati, quindi basandosi sui dati con degli studi molto approfonditi e noi infatti abbiamo all'interno di Omnicom anche delle divisioni che si occupano proprio solo di ricerca, ricerca sulle audience, ricerca sui consumatori, ricerca sulle persone, sulle abitudini di consumo mediatico. Proprio perché dobbiamo cercare di raggiungere con il giusto messaggio, nel giusto momento, il giusto pubblico. Il pubblico che può essere interessato a ricevere quel messaggio e che è interessante per le nostre aziende clienti. C'era una sottodomanda nella mia domanda, che forse è bene che la metto in luce. I campi da esplorare ancora in questa cosa così pervasiva quali sono? Beh, allora, già da qualche anno si parla dell'importanza dei dati, quindi di tutti i dati che noi abbiamo a disposizione grazie alla trasformazione digitale. Il web non è solo un canale aggiuntivo, ma è anche un canale non solo per comunicare, ma anche per raccogliere tantissimi dati. Oggi ai dati si aggiunge l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è come se i dati sono la scintilla, l'intelligenza artificiale diventa l'incendio che dà una nuova potenzialità infinita e che al momento non è ancora totalmente compresa rispetto appunto a questi dati. Ti affascina o ti spaventa? Mi affascina moltissimo, mi affascina e come tutte le grandi innovazioni sicuramente andrà governata e dovremo imparare a governarla e utilizzarla nel migliore dei modi. Non credo a chi dice che sostituirà gli uomini, io credo che gli uomini avranno un'intelligenza diversa da poter mettere in campo, proprio quella di governare, di indirizzare, di dirigere l'intelligenza artificiale. Senti, a proposito di comunicazione e di comunicatori, c'è una sezione di comunicatori moderni che oramai sono diventati un po' noti a grande pubblico, gli influencer. Oramai leggiamo tutti i carrieri influencer, cosa fa questa l'influencer, questo influencer, insomma la storia della Ferragni, che è forse la più famosa, anche la più ricca probabilmente, ma per dire anche in una manifestazione come quella dei trattori, un grande quotidiano, un Corriere della Sera, il giorno dopo mettendo i vari leader c'era anche l'agro-influencer, un signore di 28 anni non mi ricordo il nome, ma ha colpito la categoria che è l'influencer delle questioni agricole. Oppure nel campo, io dirigo adesso un settimanale, se ho quelle economie politiche, mi dicono che sui social ci sono gli influencer di economia che fanno pillole 20, 30, 40 secondi, è una cosa impensabile, ma qual è la posizione sull'influencer vostra? Alla fine se ci pensiamo non è molto diverso il loro ruolo rispetto a quelli che una volta si chiamavano gli opinion leader, quindi tu quanti opinion leader avrai intervistato nella tua vita, centinaia, sono persone che riescono a, sulla base di una competenza specifica, riescono a veicolare in maniera più efficace un messaggio. Ecco, oggi ci troviamo di fronte probabilmente a una fase di passaggio, quindi c'è questo fino, abbiamo visto negli anni scorsi affrontare il tema influencer, influencer marketing, anche spinti un po' dalla moda, di voler fare anche, di sondare quel tipo di comunicazione, oggi io credo che ci troveremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni ad affrontare questo tema come un vero e proprio canale di comunicazione. Tutte le crisi spesso sono crisi di crescita, quindi non è un fenomeno che vedremo spegnersi, è un fenomeno che ha bisogno di, in qualche modo, normalizzarsi, quindi affrontarlo con, come dicevo prima, sulla base di dati, di analisi, di misurazione. Non ho capito male, ma insomma Omnicom si candida anche a sorreggere questo fenomeno, a inquadrarlo. Ma non tanto sorreggere, quanto guidare le aziende attraverso questo fenomeno, sicuramente. Noi come Omnicom abbiamo studi che analizzano gli influencer prima di suggerirli alle nostre aziende clienti, quindi le aziende clienti devono conoscere a quali influencer affidare il proprio messaggio, i propri prodotti e poi strumenti di misurazione, proprio per vedere se l'investimento ha prodotto dei risultati. Omnicom è la sostenibilità, l'altra parola mantra del discorso pubblico. c'è un progetto specifico che si chiama Prospettiva Terra, ce lo spiega, stavolta siamo passati a lei, ormai abbiamo capito oggi, abbiamo pasticciato. Ma allora è un progetto, è un progetto bellissimo, mi fa molto piacere parlarne. Omnicom Media Group è un'azienda di 750 persone, quindi un'azienda di 750 persone che lavora con circa 170 aziende in Italia, in Italia con sede a Milano, a Roma e anche una sede a Verona e sente molto forte la responsabilità anche di questo grande mondo, come prima tu dicevi, che è quello della sostenibilità. Quindi Omnicom insieme a un grandissimo esperto di vita vegetale, esperto di alberi, che è Stefano Mancuso, docente, professore all'Università di Firenze, ha creato questo progetto Prospettiva Terra, a cui hanno aderito anche altre aziende come Enkel, come McDonald's, come Ricola, ma anche grandi soggetti della comunicazione come Publitali 80, come Acone Associati, quindi che possano in qualche modo tutti insieme cercare di sottolineare l'importanza degli alberi proprio come elemento che può offrire una soluzione ai temi legati all'innalzamento della temperatura, al cambiamento climatico, a tutto ciò che stiamo vivendo in questo momento. In questo momento non stiamo facendo piantumazione, ma il primo progetto di Prospettiva Terra è quello di misurare attraverso dei sensori, quindi attraverso tecnologia digitale, misurare quanto ogni singolo albero è in grado di assorbire di CO2, di sostanze nocive presenti nell'area, quanto ogni albero è capace di abbassare la temperatura, quindi di creare un clima più favorevole e quanto anche ogni albero comunica attraverso delle vibrazioni il proprio stato di salute. Abbiamo visto negli scorsi mesi, negli ultimi anni, questi fenomeni tremendi che una volta si vedevano solo ai Caraibi, di uragani, di alberi sradicati eccetera, ecco attraverso questi sensori noi riusciamo anche a leggere la stabilità e la salute degli alberi e questo è uno studio che poi reso pubblico e condiviso con le amministrazioni e le autorità politiche potrà dare un grande contributo. Assolutamente sì e comunque credo che sia importante eticamente nel rispetto della comunità ma anche della terra investire oramai e fare attenzione, ogni azienda faccia attenzione a questo tema. Io prima ci ho scherzato dicendo che la sostenibilità non mi piace come figura retorica ma la considero importante come figura semantica, cioè con un significato reale calato non solo nello stato della nostra vita ma anche in quello che è l'impegno delle aziende. Io credo che la reputazione di cui vorrei parlare ma non c'è tempo, oggi anche in un'azienda passi anche da questo insomma. E in più di questo progetto mi piace molto sottolineare il fatto che non è il progetto di un'azienda ma è il progetto di un gruppo di aziende che si mettono insieme per trovare insieme una soluzione e tra l'altro speriamo che tante altre arrivino a darci forza. Parliamo di un altro progetto, qui però leggo la domanda perché è complicato, Beyond Visual Attention, torniamo un po' a parlare se non sbaglio di intelligenza artificiale perché primo studio in Europa che misura, è vostro, insomma di Omnicom, che misura l'attenzione agli stimoli pubblicitari integrando machine learning, intelligenza artificiale e neuroscienza. Certo. Abba, quasi da avere paura. Guarda, è un po' il tema con cui abbiamo aperto… Come diceva Roma, semplifichiamo un po'. Certo, sì sì sì, assolutamente. E' un po' il tema con cui abbiamo aperto la nostra chiacchierata, oggi ogni persona, ognuno di noi è sottoposto a quello che si chiama overload informativo, quindi un sovraccarico di informazioni, una tempesta di informazioni che ci circonda e ci colpisce e noi non siamo in grado di elaborare tutte queste informazioni, allora come azienda, come grande gruppo che si occupa proprio di comunicazione, di pubblicità, di veicolare messaggi sentiamo la responsabilità anche di porci un… di dotarci di strumenti di analisi e di ricerca in grado di capire come possiamo diminuire questi messaggi mantenendone comunque l'efficacia e questo è un po' il senso dello studio, quindi uno studio che è stato condotto insieme a istituti di ricerca come Ipsos, come Nielsen, come AINEM, associazione italiana di neuromarketing, proprio per cercare di capire come ogni persona reagisce agli stimoli pubblicitari, ai messaggi pubblicitari e quali sono quindi i canali più efficaci, più funzionali, proprio per riuscire a mantenere vivo il ricordo di ciò che si è visto, di ciò che si è ascoltato. Quindi soprattutto visual attention, quindi di poter darti visivo attenzione globale anche… Allora l'idea è di andare oltre… Testo scritto, anche messaggi, no? Certo, di andare oltre l'attenzione visiva, quindi l'attenzione non è solo ciò che vediamo ma è per esempio anche ciò che ascoltiamo e quindi abbiamo cercato anche di dare attenzione, di dare… di sottolineare come l'aspetto uditivo, quindi il messaggio veicolato attraverso la radio ma anche la televisione funzioni proprio nel rafforzare l'informazione. Allora, grazie a Tommaso Valle… Grazie a te, grazie a lei… Grazie a te e a lei, insomma grazie davvero perché è stato molto interessante secondo me, per me, credo anche per il pubblico che ci segue, abbiamo spiegato bene, abbiamo raccontato in modo semplice cose complesse, siamo entrati e poi ho detto anche i segreti di chi fa questo mestiere, che spesso nelle sigle non si capisce bene, invece è un mestiere importantissimo e io credo anche molto affascinante la nostra epoca, insomma. Marketing, Communication, Director, Omicom, Media, Group. Quando vuoi, siamo sempre qui per fare un fact-checking di uno dei temi che abbiamo toccato, che sono di grande attualità, comunicazione, intelligenza artificiale, sostenibilità… E continueranno a essere di grande attualità nei prossimi mesi. Ci vediamo insieme, è un servizio che c'è ogni puntata di Italpress Economy, che riguarda un settore importante della nostra economia, legato a una filiera importante anche per l'Italia che è l'agri-food, lo vediamo insieme. Bene. Ecco. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto che dà il via al nuovo programma Latte nelle scuole. La dotazione è di 6 milioni di euro. Fino al 13 marzo i produttori del settore lattiero caseario, le loro associazioni, cooperative o consorsi potranno presentare i progetti per promuovere il consumo di latte fra gli allunni delle scuole primarie. Analogamente al bando già avviato per frutta e verdura nelle scuole, anche questa misura europea per la promozione del latte negli istituti sarà realizzata dal Masaf, non più attraverso appalti e imprese attive nella distribuzione, ma con un modello che si rivolge direttamente al settore primario. Il programma finanzia la fornitura e la distribuzione di prodotti lattiero caseari fra gli allunni degli istituti scolastici primari, nonché azioni educative di accompagnamento, tra cui corsi di degustazione, attività ludico-ricreative, visite a fattorie e azioni informative sull'agricoltura, sulle sane abitudini alimentari e sulle filiere. Si vuole così promuovere anche un approccio sostenibile, sensibilizzando gli allunni sul consumo equilibrato e le filiere corte, con un effetto protettivo sulla salute e di contrasto agli sprechi. E' tutto per questa puntata di Italpress Economy, ricca come sempre di tante notizie, tanti servizi, tante analisi, il tutto in molto meno di un'ora. Noi vi ringraziamo e vi aspettiamo venerdì prossimo. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS